Buongiorno a tutti, possiamo iniziare la conferenza stampa, inizia Mangiante Sky Sport. Question for Edin Dzeko, Edin, probably you didn't score as much as you wanted to, did you expect something more or in any case if there's something wrong with the game of the team? No, obviously if I don't score, it's something wrong with me, not with someone else, because this is my job and obviously I know I should have done better in some situations, some games, for example the last game after 1-0, I should have scored and finished game, I didn't. Then we considered the penalty, but I'm looking positive to the future and I'm sure the goals, my goals will come and the teams will improve even more. Avresti voluto segnare di più, o avresti dovuto essere più incisivo nelle partite, se non segno è soltanto colpa mia, avrei dovuto fare meglio in alcune occasioni in precedenza, nonostante ciò sono positivo rispetto al futuro, rispetto a quello che potrò portare alla squadra e che i gol arriveranno. Una domanda per Garzia è questa, riguarda Salah, mi chiedo se a luce degli allenamenti, soprattutto degli ultimi due giorni, si ritiene Salah pronto per giocare dal primo minuto? La cosa sicura è che Mohamed sta bene, l'altra cosa che sembra logica è che non ha 95 minuti nelle gambe, ma è pronto, sì sì è pronto. Goriara e Sport Buonasera Garzia Per quanto riguarda invece l'assetto difensivo, la Roma è la squadra che complessivamente ha subito più gol nelle coppe europee, ne ha fatti per fortuna anche tanti, non ha mai giocato Castan, potrebbe giocare domani e non Rudiger, visto che Rudiger non è parso in grande forma a Torino sabato? Delle possibilità ci sono, non solo per il riparto difensivo, per tutti i riparti della squadra, ma ci sono anche poche possibilità. E' così in Champions e abbiamo anche infortunati che fanno in modo che le soluzioni sono un po' ridotte, ma soluzioni ci sono. Allora domani ci sarà da mettere in campo e da avere sulla panchina 18 ragazzi, 11 sul campo, 7 sulla panchina, che daranno tutto per la vittoria, perché non c'è altro obiettivo che vincere domani. Penso che questa partita si vincerà sulla volia e la nostra è immensa. Paisano Roma Radio Una domanda per Dzeko, qual è il tuo bilancio della tua esperienza fino adesso a Roma? Qual è il tuo bilancio della tua esperienza qui a Roma? Penso che abbiamo iniziato molto bene e l'unico problema è la prima volta che non abbiamo vissuto e tutti stanno facendo una grande cosa. Penso che ci sono molti spiegelati in futuro, la settimana è lunga, ci sono molti spiegelati, credo che ci siamo ancora qui. Abbiamo cominciato bene quest'anno, poi le ultime quattro partite sono andate male, per questo ci siamo meritati delle critiche. La stagione però è ancora lunga, noi ci siamo in classifica, dobbiamo far vedere che abbiamo carattere. Secondo me insomma saremo a buon punto durante la stagione in classifica. Paonessa Roma TV Una domanda per Garzia, ha appena parlato di voglia di vincere, può essere un fattore in più la presenza di pallotta qui a Roma? Ho risposto già dopo la partita a Torino, il presidente sarà con noi, ripeto quello che ho detto. Siamo più forti ovviamente con il presidente, saremo più forti con i nostri tifosi domani. Mi aspetto che siamo tutti a spingere ovviamente nella stessa direzione, perché come l'ho detto domani si giocherà sul fatto di dimostrare che la fame nostra veramente non ci può fare di più, ci sono altre componenti, ma sappiamo anche che è una partita dove non c'è altro da fare che vincere. Questa partita è un po' come un derby, non si gioca, si vince questa partita domani e niente altro. Buongiorno mister, in questi giorni si è lavorato di più sulla testa o sulla tattica, perché quest'anno la Roma è stata capace di fare le partite perfette e le partite sbagliatissime e poche squadre nel mondo fanno così. Come ho detto dopo alcune partite almeno non ci annoiamo quando gioca la Roma, ma domani non c'è niente da pensare a altro. Come ho detto dobbiamo fare la partita giusta e dimostrare sul campo che i 11 lupi che inizieranno, i 3 che forse entreranno e i 18 che spingeranno dalla panchina con tutto lo staff faremo in modo, come ha detto Edin, di raggiungere uno degli obiettivi della stagione, superare il girone e qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League. Maida, il Corriere dello Sport. Buongiorno. Buongiorno. I have a question for Edin. Edin, Ruggero Rizzitelli, a former Roma player, said that you look sad on the pitch while you play. Is that true that you feel sad for something or did you lose self-confidence in the last few games? I don't like losing and that's what makes me sad because I know this team is good enough to win every game and at the moment we're not doing it so obviously I'm not happy, I'm not happy for myself, I'm not happy for my team because we deserve more and like I said we have to start from tomorrow, let's say new chapter, reach the first target and then this win tomorrow, what we want to do can also help us for the next few games before the Christmas. Rizzitelli vi ha criticato sul vostro gioco, a me non piace... Rizzitelli vi ha detto che i giocatori tristi. Ah, tristi, non ho sentito male. Pardon, chiedo scusa, non ho sentito male. A noi non piace perdere, a me non piace perdere, meritiamo di più, domani c'è una partita importante e noi vogliamo raggiungere il nostro primo obiettivo che è quello della qualificazione. Valdiserri, il Corriere della Sera. Posso farne una per uno? Assolutamente sì. Perfetto, allora volevo chiedere questo a Garcia. Ieri il direttore sportivo Sabatini ha usato questa frase, se affonda Garcia affondiamo tutti. dato che poi quando le frasi vengono dette, il momento in cui vengono dette è importante, dirlo alla vigilia di questa partita e di quella di Napoli. Le fa pensare che questa settimana sia la più difficile da quando lei è a Roma o siamo noi che pensiamo male? Siamo sempre a cercare... Ma questa dichiarazione di Walter dimostra quello che abbiamo già detto, che siamo tutti uniti e che sappiamo che siamo da soli e che dobbiamo lottare per i nostri obiettivi e i nostri risultati. C'è solo questo, ma la squadra c'è. La società ha dimostrato ovviamente questa unità in un momento dove la ruota non gira, anche la ruota della sfortuna, non gira sempre nel nostro favore. Vediamo quel rigore che abbiamo preso a Torino. Ma io lo ripeto, la qualità di un gruppo, la qualità dei uomini è di dimostrare sempre di poter uscire di questi momenti dove anche la sfortuna si mette un po' sulla nostra strada. C'è solo a noi di fare in modo di spingere di nuovo e tanto forte come lo faremo domani per vincere, perché c'è solo questa cosa che è rimettere le cose a posto, niente altro. Parla sempre il rettangolo verde, non c'è altro da fare. E poi volevo chiedere invece a Edin questo. Domani, come ha detto anche lui, sarà una partita decisiva, è il primo obiettivo stagionale da raggiungere. Lo stadio, se va bene, sarà mezzo vuoto. Se lo aspettava quando è arrivato a Roma, di trovare una situazione come questa. Insomma, uno stadio dove anche nelle partite importanti non ci sarà mai il pieno. Come ha detto, tomorrow you have the first target to reach the first target. But the stadio will be probably full and empty. Did you expect a such a situation before coming to Rome? Obviously, if we want to win something, we definitely need all our fans behind us because we saw that in the games against Juve and against Barcelona home when the stadio was full, the fans were always behind us and it's definitely sad to see that the stadio is empty. So, like I said a few weeks ago, hopefully this thing can resolve as soon as possible because we need all the fans and we want them back as soon as possible because they can help us reach our targets. Abbiamo bisogno del supporto dei tifosi, come è stato con la Juventus e il Barcellona, per cui avere loro con noi è sicuramente importante. E' importante che ci seguano e ci supportino nel nostro cammino. Vinci Repubblica. Salve. Io, mister, le volevo chiedere, lei ha detto ovviamente che domani è una partita da vincere a tutti i costi ma potrebbe anche succedere ovviamente il contrario. Volevo chiederle, se la Roma non dovesse passare il turno, si sentirebbe di aver fallito? Ma è giocata la partita, l'abbiamo il risultato? Sì. Io penso solo a una cosa, penso che l'ho detto in maniera chiara, penso solo a vincere e domani vinceremo, non c'è niente altro da dire e da fare. Non è che possiamo contare su un pareggio tra Leverkusen e Barcellona e pareggiare noi per superare il turno. Non è l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento giusto è di combattere domani per dimostrare sul campo che abbiamo una voglia feroce e che la Roma supererà questo girone e non capita spesso queste partite importanti di qualificazione in Europa per questo club e lo vogliamo fare spesso nel futuro e vogliamo essere agno nel prossimo sorteggio, non c'è niente altro importante. Buongiorno, vorrei fare una domanda a Geco. Un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa circa, Icardi, che è il capocannoniere della scorsa stagione nell'Inter, si è lamentato perché sta segnando meno dell'anno scorso perché il gioco dell'Inter di quest'anno è meno confacente alle sue caratteristiche, alle sue qualità, come lui. Hai mai pensato che in certe situazioni quello che vive Icardi è un po' quello che stai vivendo tu? No, penso che ho giocato in molte mani diversi con gli altri team, quindi ho dovuto giocare anche qui. Non c'è niente di differenza di altri team. Se sei un giocatore, sei un giocatore, hai bisogno di scoprire i gols. Non importa in cui spazio, perché ho avuto più chances di scoprire i più gols. Non ho fatto, perché sono l'unico che va a criticare me e se qualcuno ha criticato me, ho accettato, perché è come funziona in football. Hai bisogno di accepterlo e farlo bene, farlo a pensare positivamente nel futuro. e questo è come sono. Inizio da domani ho cercato di fare alcuni buoni team, e aiutare il team a vincere il gioco, che tutti noi necessitiamo e vogliamo. Ho giocato in tanti modi, in tante squadre. Se uno è forte, è forte comunque. Critico me stesso e accetto anche la situazione. Però sono positivo e cercherò da domani di fare più gol. e migliora la situazione. Serafini il tempo. Ciao, buongiorno. Una domanda per Dzeko. Volevo chiederti, adesso che conosci un pochino il campionato italiano, se secondo te, visto che ho visto altre squadre che sono delle pretendenti della Roma, se questa squadra può vincere lo Scudetto? Se noi giochiamo come abbiamo già in ultimi due spiegelati, non è sicuramente non. Ma come ho detto prima, siamo meglio di quello che stiamo a questo momento. E abbiamo solo bisogno di mettere le pietre in un'altra domanda e provare a vincere il prossimo gioco, perché così molte più spiegelati sono arrivati, importanti spiegelati. Come ho detto, la settimana è lunga e nessuno va vincere lo Scudetto in Dezember, ma puoi vincere anche all'inizio della settimana. Quindi penso che la cosa più importante è andare a guardare il gioco per il gioco e poi, dopo un pochino, vedremo dove siamo. Ma siamo abbastanza forti per fare delle cose grandi. Se giochiamo come abbiamo giocato le ultime partite, sicuramente non vinceremo lo Scudetto. Ma io sono comunque convinto che possiamo fare meglio. e ovviamente lo Scudetto non si vince neanche a dicembre, per cui bisognerà vedere alla fine della stagione come sarà andata. Una domanda anche per Garzia. Ne approfitto, visto che ce l'avvicino, e volevo chiedere se secondo lei questa squadra finora ha valorizzato in pieno le qualità di Dzeko. Sappiamo perché abbiamo preso Edin, perché è un grande centravanti, un bomber, un grande campione. Penso che la squadra può dare più colpi da sparare a Edin, soprattutto in questo momento, dove siamo stati un po' meno brillanti sul piano offensivo. Ma io, ovviamente, ho totale fiducia in tutti i miei giocatori, in tutta la squadra. Abbiamo fatto tanti gol, non dimentichiamo che siamo primo attacco della Serie A, non si fa così senza gioco e senza possibilità di avere delle occasioni. Dobbiamo continuare, perché questo da due anni e mezzo, lo dico, a produrre gioco e soprattutto a dare occasioni di gol a questa squadra e al nostro leader d'attacco. Sono tranquillo che Edin farà tanti gol e noi saremo tutti contenti, soprattutto del riparto offensivo e del gioco della squadra che porta alle occasioni, come ho mai sempre detto. La cosa preoccupante è quando una squadra non ha occasioni. Non è il caso della Roma dall'inizio della stagione. Facciamo l'ultima. Rosso Mando, delle radio stereo. Salve. Domanda per Edin. a cui volevo chiedere, immagino non ti è capitato tante volte in carriera di avere tutte queste difficoltà anche sottoporta. Ti chiedo, ti sei dato una spiegazione del perché stai avendo tutte queste difficoltà? Hai pensato sulle difficoltà che stiamo avendo ora? E hai trovato una ragione? Penso che ho avuto, anche nel passato, penso che per tutti gli strikers è difficoltà quando non ha scoperto. e quando mi arrivo a casa dopo il gioco penso a la situazione cosa potrei fare meglio e poi tento di fare meglio nel prossimo gioco ma ovviamente sarebbe meglio se avessi avessi avuto ogni gioco è ancora meglio per la confidenza e tutto ma non ho cercato di pensare troppo di cosa succede e sicuramente voglio essere meglio e scorrere più gols nei prossimi gioco periodi così l'ho avuto anche nel passato è difficile ovviamente quando un attaccante non segna io torno spesso, quando torno a casa ci penso però non voglio neanche essere troppo concentrato su questa situazione per cui voglio essenzialmente fare meglio tornare a segnare domanda per il mister Prima dell'ultima sosta la Roma sembrava essere entrata in ritmo giocare anche delle partite buone a livello tattico poi mister, cosa è successo? perché poi insomma le partite successive si è un po' persa la Roma nell'ultima partita abbiamo visto forse anche una squadra impaurita nessuno rischiava la giocata le chiedo vede una squadra che ha paura quasi di rischiare giocatori un po' bloccati mentalmente una squadra impaurita non va a Torino facendo un pressing alto tutta la partita o quasi perché sull'1-0 ci siamo abbassati come era normale farlo una squadra che non ha fiducia in se stessa non fa questa cosa è giusto segnare questa cosa che dopo prima dell'ultima sosta che non mi sembra essere un'altra epoca della stagione della Roma la Roma stava buonissima fortissima faceva tante gole aveva vinto il derby erano tutti belli tutti tutti fantastici e allora dopo dopo alcune partite più tre che quattro perché sapete quello che penso del Bologna anche se era possibile vincere al Bologna eravamo in vantaggio siamo tutti nulli brutti scarsi e allora come lo dico il mio lavoro è di tenere l'equilibrio su tutte le cose e di essere euforici un giorno e depressi un altro giorno come l'ha detto Edin la stagione è lunga domani è una squadra è una partita senza ritorno la vinceremo la vogliamo vincere è solo questo e dopo la stagione è ancora lunga non siamo neanche alla fine del girone d'andata grazie a tutti